Diverticolite acuta. Questa è l'ultima teoria emersa per giustificare l'operazione chirurgica addominale subita da Kate Middleton, nonché i tempi di recupero indicati nel comunicato di Buckingham Palace. In questa nota è stata inoltre invocata la massima riservatezza sulla condizione della principessa del Galles. Tra le teorie più plausibili discusse a Londra, si pensa che l'intervento sia stato necessario a causa di una grave diverticolite, ha commentato il giornalista Antonio Caprarica, specialista della famiglia reale britannica, in seguito alla divulgazione delle notizie. Ma cosa significa avere una diverticolite acuta e quali sono i pericoli? Maurizio Vecchi, professore di gastroenterologia all'Università Statale di Milano e consulente di Adoncronos Salute, lo ha spiegato. La diverticolite acuta è essenzialmente un'infiammazione di un diverticolo con una piccola o grande perforazione. A seconda della grandezza della perforazione, l'infiammazione può rimanere localizzata in una zona dell'addome o, nei casi più seri, può espandersi causando una peritonite diffusa, ha precisato. Lascia un messaggio di auguri di pronta guarigione per la principessa. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime notizie.